Buonasera pubblico di Casalotto, ben ritrovati, ben sintonizzati, nuova istruzione, quindi benvenuti in diretta, ovviamente tra pochissimi i protagonisti saranno loro, i numeri, avete giocato, ormai i giochi sono fatti, quindi in bocca in bocca il lupo per l'istruzione del martedì sera, partono i saluti come sempre, quindi ciao Lio, un bacio grande, ci vediamo domani in diretta alle 14, doveroso salutare i ragazzi in regia che man mano saranno coloro che mineranno le ruote da leggere e AGC che è il nostro autore, Giovanni Caviezer, un ben ritrovato a te caro Marco che sei già collegato con Lio, noi abbiamo fatto subito già una ola, oh perché abbiamo visto già dalle cose, quindi lo aspetto qua con voi, assolutamente ancora live, in diretta, strano, non fischi più, ormai sai che non mi spavento, fatto, fatto, molto bene, è un po' che non ti faccio spaventare, ma meno male perché mi spavento per poco, così poco, però ci stiamo, ancora oggi? No, sì, ho fatto fare in diretta, bei tempi, bei tempi, allora, vediamo se ce la faccio, allora, andiamo, andiamo, Potessero parlare i microfoni quando siamo in pubblicità, va bene, allora Sai che secondo me è anche più divertente il cuorion, cioè adesso i nomi Allora aspetta, aspetta Marco, 40 secondi, simbolotto, Roma, vediamo se ho diviso Nuova, nuovo mese, nuova ruota, avevi ragione tu forse Non lo so, vediamo subito, simbolotto legato a che ruota è per tutto questo mese Vediamo intanto i 5 simboli di questa sera, se ce lo danno i ragazzi, mancano 26 secondi e poi vi saluteremo E poi vi daremo l'appuntamento a domani, mercoledì Ce la faremo? Intanto vabbè, rinnovo la mini pillola del mattino e i cuori 3 secondi Un bacione, buona serata, grazie, vi aspetto domani in diretta Ci tagliano, buona serata, ciao a domani Ciao Marco, grazie, un bacione, ciao ancora Ciao